ciao a tutti amici di evriai un salutone dal green ritorniamo qui per il canale di evriai con dei video veramente interessanti abbiamo lo speciale dei giocatori argento della serie a che saranno buggati ovvero quei giocatori che andranno di moda perché magari costeranno poco e saranno veramente veramente forti e qui io direi di partire subito perché ne abbiamo tantissimi quindi preparate i pop corn mettetevi comodi abbiamo una ventina di giocatori di cui parlare quindi cerchiamo di andare abbastanza anche rapidi partiamo subito con il portiere che è questo storari argento raro guardiamo 74 di overall con 77 di tuffo 71 di presa 75 posizionamento e 77 riflessi veramente dei valori molto ma molto alti per un portiere argento se passiamo ai difensori qui ce ne sono molti qualcuno ha dovuto lasciarlo fuori altrimenti non finivo più comincerai con bamba il difensore centrale del palermo guardate 74 velocità 71 scivolate 73 contrasti ma soprattutto un 88 nella forza fisica veramente possente come anche possente sarà culibali del napoli ancora più veloce 75 di velocità 72 nelle scivolate 73 nel contrasti da in piedi e un 93 di forza fisica con anche ragazzi un 81 nell'elevazione e 71 nel colpo di testa questo però ha un work rate alto medio per cui sarà un difensore che spesso e volentieri ve lo troverete in area avversaria sui corner magari per buttarla dentro e con queste statistiche non è detto che non ci riesca veramente veramente un buon difensore argento buonissimo ci sarebbe anche De Maillot ma noi passiamo ai terzini perché comunque De Maillot anche lui non è velocissimo gli hanno abbassato un po la velocità difensore centrale anche lui francese del Genoa argento con 92 di forza fisica se non sbaglio ho detto passiamo ai terzini abbiamo De Silvestri abbiamo questo terzino destro con 81 di velocità work rate giusti perché sono alto medio abbiamo un 79 di forza fisica un 77 nel cross un 85 nella stamina per cui durante l'arco della partita difficilmente arriverà alla fine stanchissimo abbiamo un 73 nelle scivolate 74 nei contrasti quindi valori mediamente alti per un giocatore argento per cui sembra quasi un giocatore oro non raro ragazzi veramente da prendere questo qui come c'è anche abate che ovviamente è il più baggato di tutti essendo 74 argento con 92 di velocità 92 di stamina abbiamo un 74 nella forza fisica 73 nel cross 74 sia nelle scivolate che nei contrasti da in piedi questo costerà tantissimo ma sarà veramente baggatissimo dall'altra parte ce ne sono tre di terzini io inizio parlare di gulam perché gulam non avendo una velocità estrema eccezionale a questo 82 di velocità però ragazzi a un 80 nel cross abbiamo un 77 nelle scivolate un 74 nei contrasti da in piedi un 74 anche nella forza un terzino che secondo me sarà veramente forte questo qui e magari magari anche per quanto riguarda non so le le aste per fare un po' di crediti potrebbe servirvi è perché un giocatore che adesso nessuno se lo fila e poi fra qualche mesetto lo usano tutti abbiamo anche armero armero 89 velocità 72 forza fisica 92 stamina questo 86 nella potenza tiro che non lo so quando mai andremo a tirare con armero 76 nel cross 72 scivolate 75 nei contrasti abbiamo veramente anche i passaggi sono buoni 71 nei passaggi lunghi 73 nei passaggi corti gran terzino questo qui per essere un argento anche questo qua sarà avrà dei prezzi folli come avrà qualche prezzo folle forse zuniga zuniga ragazzi 87 velocità con 4 stelle skill abbiamo un 75 sì nelle scivolate che nei contrasti anche questo sarà un terzino fantastico per essere un argento adesso passiamo al centro campo altrimenti sembra che sono uno che a cui piacciono le squadre difensive abbiamo allan dell'udinese anche l'anno scorso l'avevo inserito nei probabili baggati e infatti nelle rose argento era abbastanza forte adesso abbiamo come centrocampista difensivo abbiamo questo 75 nelle scivolate con 77 nei contrasti abbiamo questo 69 nella marcatura soprattutto di allan piace cosa la velocità perché è molto veloce questo 76 di velocità che è un 79 accelerazione con 73 sprint abbiamo un 84 nella stamina 83 aggressività il work rate giusto per un cdc perché è medio alto per cui questo anche questo secondo me avrà un prezzo basso e renderà molto se vorrete farvi una squadra d'argento ci ho messo dentro anche badu perché anche lui a parte le tre stelle skill il work rate questa volta invece alto alto per cui uno che vi segue l'azione sia in difesa che in attacco badu ha una caratteristica molto importante che è la velocità se noi guardiamo le caratteristiche fisiche lui ha un 84 accelerazione con 80 sprint buonissimi valori di agilità ed equilibrio di elevazione per cui anche questo potrebbe essere abbastanza bagano non ha tanta forza fisica però anche i contrasti sono buoni 71 69 scivolate non è male per essere un 72 di overall sempre centrocampo abbiamo anche izco che è passato dal catania al chievo lui tanta velocità anche per lui abbiamo un 73 nei passaggi lunghi un 77 nei passaggi corti 84 nella potenza tiro 82 stamina quindi anche questo si stancherà poco 74 forza fisica sembra un centrocampista a tutto tondo fatto molto ma molto bene abbiamo anche cristo dulopulos che d'ora in poi lo chiameremo lazaros per evitare che la mia lingua sia nodi anche questo guardate 72 di overall 3 stelle skill work rate alto medio e abbiamo 79 controllo palla 77 effetto come il dribbling abbiamo un 73 nei passaggi lunghi abbiamo un 77 in quelli corti 75 nella potenza tiro 74 forza per cui anche questo è un giocatore a tutto tondo se andiamo avanti abbiamo un altro centrocampista che è gonzalez della lazio anche questo qui è molto ma molto buono a parte le due stelle skill vedete che tutti i valori sono mediamente alti per un argento abbiamo 75 controllo palla come il cross abbiamo un 72 nell'effetto 71 dribbling 73 nel colpo di testa 71 passaggi lunghi abbiamo i passaggi corti 73 la potenza tiro 73 le scivolate 77 75 nei contrasti dei piedi un 92 nella stamina 81 aggressione 80 nelle intercettazioni veramente anche questo un giocatore con un 77 di velocità veramente buono da provare passiamo sulle corsie esterne io ci ho messo simer zalico e anche questo abbastanza difficile da pronunciare perché ha una buona velocità ha un buon cross perché 75 è buono ha un 86 nella stamina come i valori difensivi questo 66 nelle scivolate 68 nei contrasti per un giocatore esterno non è malissimo secondo me potrà essere un buon giocatore per avere 72 di overhaul come 72 di overhaul ha vidmer dell'udinese anche questo secondo me sarà veramente un buon esterno work rate alto alto 75 nel cross una buona velocità perché abbiamo 82 accelerazione e sprint quindi il suo 82 è un 82 pieno 71 scivolate 73 contrasti questo forse sarà ancora meglio di versalico perché avrà anche un 74 nella forza fisica veramente veramente buono potrebbe essere un po' eliksteiner argento dall'altra parte abbiamo questo fantastico sanchez migno perché fantastico perché 4 stelle skill piede sinistro una velocità molto buona per un argento 80 di velocità abbiamo 75 controllo palla 76 nel cross 76 nell'effetto e nel dribbling abbiamo passaggi lunghi 75 passaggi corti 74 questa potenza tiro 77 secondo me sanchez migno potrebbe essere veramente un buon giocatore magari da portare anche come ala parco attaccanti abbiamo gli ultimi sei giocatori ragazzi cominciamo con 2 at non molto forti fisicamente però belli skillati abbiamo nico lopez dell'ellas verona con 4 stelle skill work rate alto medio 83 controllo palla 83 dribbling 80 di velocità che è molto buono abbiamo un 71 nella finalizzazione come anche 71 è l'effetto 70 nei long shot secondo me buon 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 giocatore questo qui è questo qui è buon giocatore nonostante la forza fisica stessa cosa per dibalà dibalà forse ancora meglio 86 di velocità ragazzi con 90 di accelerazione work rate alto basso 4 stelle skill se noi togliamo la forza fisica questo giocatore qua per fare gli 12 ad andare magari in aria con 73 effetto 74 dribbling anche questo qui coste 4 stelle skill potrebbe fare la gioia di molti che a cui piace la rosa argento della serie a alla destra io ci ho messo ovviamente il nostro berardi work rate alto medio 3 stelle skill velocità buona 83 accelerazione 85 sprint un buon tiro perché abbiamo questo effetto 71 75 finalizzazione abbiamo un 71 nella potenza tiro non male berardi non male ovviamente non si può non menzionare muriel che è veramente l'illustre argento di questa serie a 88 di velocità per lui 85 dribbling un controllo palla fantastico 85 4 stelle skill alto basso il work rate 72 nella finalizzazione con 77 potenza tiro questo sarà veramente l'argento più buggato di tutti ragazzi a me piace anche questo qui babacard della fiorentina alto medio work rate 3 stelle skill non velocissimo 78 di velocità però ragazzi 89 forza fisica per un attaccante con una potenza tiro 76 un 72 nella finalizzazione 70 nell'effetto questo potrebbe essere diciamo la vostra boa d'attacco anche un 72 nel colpo di testa con 73 nell'elevazione babacard anche questo qui segnatevi giù il nome arriviamo alla fine a parlare dell'ultimo e c'è il nostro simone zazza work rate medio basso 3 stelle skill una velocità decente la cosa che fa più impressione di lui è questo 73 nel colpo di testa con un 90 di elevazione perché 90 di elevazione è veramente tanto per un giocatore argento controllo palla 74 73 nei dribbling 76 nella finalizzazione 76 nella potenza tiro 70 nella forza fisica anche questo sembra veramente un buon attaccante argento per la serie a quest'anno la serie argento ragazzi vi darà tantissime soddisfazioni adesso noi abbiamo finito ovviamente ci vuole il like ci vuole il commento per sapere cosa ne pensate voi se c'è qualche giocatore altro argento che può sembrarvi bagato se questi qua vi piacciono mi raccomando magari con la web app che è uscita fate qualche bella operazione di mercato con questi qua che magari vi tirate su qualche dendino signori noi ovviamente ci vediamo al prossimo video è mi raccomando come sempre con tanta qualità ciao belli